Ciao amici, collezioni siamo andati al Topolino, anteprima 388 del 15 dicembre 2023, quindi significa l'ultima per quest'anno, ma in realtà è già un'anteprima che ci avvisa di ciò che uscirà nel 2024, come già accade in quella scorsa, probabilmente nel gennaio-febbraio. Il tempo vola, letteralmente mi sembrava qualche giorno fa il 15 novembre, invece mi accorti che è già il 15 dicembre. Comunque, appare il Topolino che pare a rimanere uguale se soppresso e foliazione, ecco i primi gadget del 2024, in realtà consecutivi e conseguenziali alle medaglie o le monete, quello che è, insomma, qualunque cosa essa sia che già vedemmo nella scorsa anteprima di Fabio Celoni. Non ricordo cosa essa siano, ma io le prenderò solo e soltanto con l'abbonamento nel rinnovo, altrimenti evito di fare l'iniziativa. Comunque, abbiamo la luce da lettura, che sarebbe la luce da lettura di Topolino, con la sua forma flessibile e pieghevole, questa lampada è facilmente attaccabile ed è quindi perfetta per leggere la sera, con i vostri fomenti preferiti. Le batterie sono già in questo nel gadget. Ah, boh, non ne ho idea, non so davvero cosa possa servire, che cos'è, un bastoncino? Non capisco. Le dimensioni non c'è da tutto da saperle, serve però una cosa piccola, perché presumo sia, ecco, in proporzione al logo, in proporzione un po' alle scritte. Una cosa che stia accanto al Topolino, ma come dovrebbe essere messa? Così, tenerla in mano per leggere? Mi pare di, ormai siamo già molto avanti su queste cose, ecco, io avrei gradito, se proprio dovessi chiedere una luce da lettura, quelle che stanno attaccate alla fronte, le leghi dietro con un cordino e le attacchi alla fronte ai capelli. Ma non pare essere questa l'idea. Non so se la prenderò, onestamente mi sembra un gadget tirato veramente per i capelli. E non mi sembra quindi una cosa particolarmente interessante, ma valuterò il giorno di 7 febbraio se avrà la pena, insomma, prenderlo o meno. L'ennesimo Topolibro, I Gatti. Ah, però in qualche modo mi hanno ascoltato, perché è una cosa che non so se prenderò, sono sincero, dato che abbiamo le storie di Faccini, giusto? Con cronache feline, sono sue. Eh sì, quindi abbiamo una ristampa cronologica, forse, di tutte le storie, di Faccini, quelle mute o comunque quelle corte. E abbiamo in realtà anche Dickini al Hubbard. Bene. Beh, interessante, però non capisco perché premono così tanto sui Topolibri. 9,50 euro, è mica aumentato? Non so, forse è sciolto costa in proporzione sempre di più, ma in ogni caso, non so. Non capisco nell'arco già negli ultimi mesi, compreso quest'anteprima. Il Pagnini Comics pare puntare molto su questi Topolibri, evidentemente hanno un loro fascino. Io mi fermai all'ultimo, ormai l'arte mi sembra. Quello che uscirà per Natale dubito che lo prenderò, perché non mi interessa, sicuramente però essendo Natale qualcuno lo potrebbe comprare a priori, ma I Gatti, onestamente, mi è nuova. Però in effetti è l'unica ristampa con cronache feline tutta in maniera cronologica, quindi chi non conosce questo tipo di storie e non è un collezionista come me e il Topolino, vale la pena, fidatevi di Zio Alenna, perché le storie sono molto carine. Collezionisticamente non vale niente, come tutti i Topolibri, se non a parte i primi, ma può piacere, ammetto che ha un loro fascino. Ah, ecco, le medaglie d'autore. La prima uscita sarà il 17 gennaio e io ripeto, le prenderò sole soltanto qualora ci sarà effettivamente un rinnovo dell'abbonamento, perché dover andare a cercare quello di Paperone, con Disney Big, che è una cosa che non sopporto, il grande classico, il Paperino, che magari lo prendo pure il Paperino, ma non con la medaglia, il Paperini, creato di Paperone, no. Alla fine con Topolino cosa esce? Esce l'allegato, il cofanettino, con le prime due forse medaglie, no, solo con quella di Pippo, sono molto belle, devo essere sincero, sono belle. E poi quella con Topolino, appunto, col Topo. Ma, boh, non mi è chiaro. Nel senso, in realtà mi è molto chiaro. A livello di marketing fanno sempre così per spingere anche le altre testate. Ma sono sicuro di una cosa, che qualora non ci fosse il tanto atteso da me rinnovo, cosa che dovrebbe essere quasi scontata per noi abbonati, lascio stare. Perché tra una cosa e l'altra balleranno 40-50 euro. E diffidate da chi vi dice che questi gadget hanno un valore, perché negli anni sto riscontrando che le varie monetine che sono uscite con Paperopoli, Topolini, anche le banconote, le ultime, hanno un valore puramente materiale, non tanto collezionistico. È quello che sto notando, eh. C'è chi prova a rivenderle ancora sigillate, con la loro fascetta, con tutto completo, ma chi è che si compra a circa 80-90 euro 8 Topolini sigillati? No, ormai non lo fa quasi più nessuno, lo fanno, c'è chi lo fa, con i gadget del passato. Quindi a meno che uno punta sull'investimento di qui a 30-40 anni, ma venderle una cosa che è uscita un anno fa non ha assolutamente senso. Ma questa è una mia opinione. Di Baberone e il Vecchio e il Mare, storia di Turconi, Forcelloni, Perina e Frecciero. Che cos'è? Una opinione della stelata, con dettagli in oro. Ok, dovrebbe essere quindi un'edizione simile a... Ora mi viene in mente quella sul Natale, l'Avvento. Mi viene in mente un fumetto con 25 storie, medio-corte, con la telatura e con la fita d'oro. Presumo sia così. Mi pare che questa storia già ricevete una ristampa nel topolibro dedicato a Hemingway, se non vado errato. Io evito assolutamente. No, non penso che in realtà ci sia in quale edizione, perché queste sono tante pagine. Non mi ricordo la storia. Sono otto avventure breve, pubblicate nel topolibro dal 2000 al 2001. In questo caso io non so davvero chi può ambire a quest'albo, se non a chi sono grandi fan di Turconi, di Frecciero. Poi sono degli inediti da Sando Sisti, la post-fazione di Giorgio Cavazzano, ma sono quel tipo di cose che non mi attirano per nulla. Ecco, qui abbiamo invece il volume che dicevo sui gatti. 7,50 euro. A me sembra aumentato, eh. Preso anche solo sciolto. Mi ricordavo 7. E di conseguenza mi ricordavo 9 euro col topolibro, non 9,50 euro. Ah, ma ecco perché è la festa nazionale del gatto, nonché i 60 anni della prima apparizione di Dick Kini al Hubbard di Malachia. O Malachia. O Malachia? Insomma, ognuno lo chiama come vuole. Non penso Malachia, ma... La copertina è bella, sicuramente penso sia inedita, perché non l'ho mai vista, ma anche se non lo fosse è bella. Collezionisticamente non c'è nulla da dover dire ulteriore. Paperino, oh, questa è una storia meravigliosa, peccato che la cover non è di Casti, perché non mi sembra. Ebbè, questa è la mia storia preferita di mano scarpa, cioè non avete messo una storia a caso, ma la mia preferita. Qui davvero mi prendete per la gola, eh. Sono solo 15 euro, qualcuno può pensare, ma io non sono per nulla un fanatico di ristampe. eccezione vuole per quelle in cui compare in copertina Casti o qualche suo approfondimento. Anche se recentemente ho cambiato un po' anche l'idea in questo, però questa storia è bellissima, bellissima. C'è veramente poco da dire. Nella sessione che chiudo il volume commenti, probabilmente intende la storia. Allora, io non penso che sia... vabbè, di Scarpano ovviamente, sarà di Bigarella, non ne ho idea. Chi sia l'autore copertinista, può essere anche Perina, Di Polito, sono tutti molto molto bravi, ma non è di Casti, altrimenti sarebbe stato scritto. In fumetteria con i preordini, insomma, entro l'ultimo dell'anno, una pagina di fotografia in omaggio, di Marco Rota. Però dubito che sia di Marco Rota il disegno, in copertina. bella, 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 bella. Questa può essere un'eccezione che andrò a prendere. La storia già la... ne parlai, la recensì. È una storia di... non so di che anno, non mi ricordo di che anno, ma parliamo di almeno 60, sicuro 60 anni fa. Siamo circa lì, se non di più. Io ne parlai, già la lessi, sullo copertopolino originale. Anzi, su due topolini, forse. Perché è diviso in due parti. Però... bella. Valuterò, valuterò a febbraio se darà la pena comprarlo o meno. A volte, sono quel tipo di fumetti che io compro per arrivare alla posizione gratuita sul sito quando devo comprare qualcosa che mi interessa di più. Quindi potrei tenerlo come buono per arrivare alla posizione gratuita un domani. Siamo già a Vattela Pesca? Ok, con Paperinic. Paperino. Quest'ultimo lo prenderò. Non so se... no, non è questo con la medaglia, ma è quello precedente. Va bene. 3,90. Il prezzo è sempre lo stesso, sì. Grande classico 98, ci avviciniamo sempre di più al centesimo. Nulla da attendere, se non una bella copertina, presumo, con qualcosa di inedito, con qualche effetto. C'è chi continua a dire che non è più meritevole come un tempo, ma arrivati a 98 numeri, mensili, ci può anche stare che la serie non sia sul livello iniziale. L'ultimo a Perone, disponibile anche con la medaglia, al 68. Ah, mia, ha già 78 numeri. non pensavo, il tempo vola davvero. Disney Big 191. Direi che nel settembre, ottobre 2024 avremo anche qua il duecentesimo e poi, insomma, io fossi panini di comics penserei anche a cosa farmi di questa serie. 100% pippo, tanto divertimento e mille avventure. Non so anche qua chi se le va a comprare, ma vabbè. Top of the Link Team è primaverissima. Non ho nulla da dire, provavo ad allungare un po' il brodo, ma non c'è altro da dire. In realtà, ecco, ricordiamoci che Panini Comics ha due o tre eventi da tenere d'occhio. Lucca, e Lucca è stato praticamente ieri, quindi è normale che oggi ci sia un calo fisiologico in questi mesi di uscite. E poi, aprile e maggio, che mi pare ci sia o Romics o Cartoon Mix, insomma, ci sono altre iniziative del Napoli Comic Con. Non ho ben presente il palinsesso delle fiere, ma dovrebbe essere questo il periodo, insomma, primavera inoltrata. Per cui, è così. È normale che sia così. Tenuto conto che a Lucca, veramente, quest'anno che è passato, io non ho spesi tanto, ma potenzialmente c'è chi spese tantissimo, con un budget anche molto sforato, per cui è giusto che sia così e va bene, insomma, probabilmente l'unica cosa interessante rimane, continua a rimanere queste, diciamo, nell'idea. questa luce onestamente non mi dice chissà che cosa, comunque valuterò sul momento. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao.